Grande partecipazione ai funerali di Antonino Sant'Angelo, il giovane ingegnere Sarcense di 29 anni deceduto mercoledì scorso, mentre praticava uno dei suoi sport preferiti, il lancio con il parapendio. Attorno alla famiglia di Antonino si sono stretti parenti, amici, conoscenti, in un momento di grande dolore per la prematura scomparsa di un giovane brillante amante dello sport. Nonostante vivesse da alcuni anni a Palermo, era legato alla città di Sciacca, dove era molto conosciuto. Una tragedia che si è consumata in quello che doveva essere un pomeriggio di spensieratezza. Antonino era partito dal santuario di Romitello per dirigersi verso l'area del lago Poma, nel comune di Partinico, ma durante il volo è avvenuto l'incidente. Sono stati gli amici e compagni di volo, non vedendolo rientrare a lanciare l'allarme e far scattare le ricerche, che si sono poi concluse l'indomani mattina, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita di Antonino. E i familiari, pure in queste ore drammatiche, hanno trovato la forza di ringraziare quanti hanno partecipato alle ricerche. In quella notte terribile in cui si cercava Antonino, alcuni di loro si trovavano sulla montagna, nei pressi di Partinico, insieme ai soccorritori. Pur accecati dal dolore, hanno dichiarato abbiamo potuto osservare da vicino l'operato di quegli uomini, carabinieri, vigili del fuoco, corpo forestale e soccorso alpino e speleologico siciliano. A tutti loro, hanno aggiunto, va la nostra ammirazione e il nostro ringraziamento per tutto quanto hanno fatto nel tentativo disperato di salvare la vita del nostro Antonino. Un ringraziamento particolare hanno rivolto ai ragazzi e alle ragazze del soccorso alpino e speleologico siciliano, che sulla semplice traccia di una posizione individuata utilizzando il computer di Antonino e senza nemmeno pretendere di verificarne l'attendibilità, si sono lanciati in piena notte nella scalata della montagna, risalendo in condizioni terribili un canalone in frana, mettendo a serio repentaglio la loro stessa vita e riuscendo infine a riportare il corpo di Antonino. Siamo rimasti stupiti, hanno concluso, della loro dedizione, professionalità, compostezza e preparazione. Il funerale è stato celebrato nella Basilica Maria Santissima del Soccorso, alla famiglia Sant'Angelo, le condoglianze da parte della nostra emittente.